allora vi faccio vedere come realizzare una treccia doppia che è un punto veramente molto bello da fare appunto come decorazione al posto di una treccia semplice allora si lavora su un multiplo di 18 maglie quindi dovremo avere almeno 18 maglie per fare questa treccia doppia più sempre almeno uno o due rovesci prima e dopo quindi voi impostatevi lo schema a secondo di come volete però ricordatevi sempre di mettere almeno uno o due rovesci prima e dopo perché altrimenti la treccia non viene e poi ci vogliono 18 maglie per realizzare questa treccia qua e si lavora così allora intanto creiamo la base sulla quale lavoreremo questa treccia quindi in questo caso io faccio una piastrella per la mia coperta e ho caricato 4 dritti scusate 4 rovesci prima poi i miei 18 dritti e 4 rovesci dopo quindi fate alcuni giri io ne ho fatti 4 e mi ritrovo adesso sul dritto del lavoro per iniziare la treccia vera e propria fate sempre alcuni giri a maglia rasata prima in modo che non si sciupi il bordo perché se iniziamo subito dalla treccia ovviamente il bordo si sformerà tutto allora si lavora così intanto il primo giro a dritto dello schema lo facciamo in questo modo facciamo sempre i nostri le nostre prime maglie a rovescio io ne ho fatte ho deciso di farne 4 ovviamente è una scelta mia per avere la misura della piastrella che voglio realizzare per la mia coperta quindi faccio una due tre quattro rovesci questo è il mio primo rovescio e poi inizio la lavorazione di questa treccia allora prendiamo tre maglie dal ferro le prime tre quindi maglie di queste 18 le mettiamo su ferrino ausiliario per fare la nostra trecce le passiamo dietro sul dietro del lavoro ecco qua con due fili per fare un lavoro un pochino più grosso ok passiamo quindi queste tre maglie sul ferro ausiliario dietro facendo attenzione al filo che appunto rimanga sempre bene che non si incroci con queste maglie quindi il filo deve rimanere davanti vedete a queste tre maglie e facciamo tre dritti quindi lavoriamo a dritto quest'altro gruppetto di maglie che sono levate le prime tre quindi facciamo tre dritti ecco qua quindi tre dritti poi ripassiamo davanti le tre maglie che avevamo sul ferrino ausiliario le rimettiamo davanti queste tre maglie qui passiamo il filo dietro quindi le ripassiamo per lavorarle se vi torna meglio potete anche ricaricarle sopra il ferro sinistro se ci lavorate meglio semplicemente vedete le possiamo ricaricare sopra il ferro facendo sempre attenzione a non incrociare il filo vedete il filo deve rimanere dietro deve rimanere dietro le potete rimettere sul ferro se preferite e poi le lavoriamo quindi una a dritto normalmente due attenzione anche a non girarle quando le rimettiamo davanti adesso poi ve lo farò rivedere ok quindi abbiamo lavorato queste tre nuovamente ne riprendiamo ancora tre ecco qua tre e le sfidiamo sempre dal ferro le mettiamo sul ferro ausiliario e le mettiamo nuovamente dietro quindi ancora una volta attenzione a non incrociare il filo queste tre ricordatevi fare attenzione sempre anche a non girarle anche se essendo tre pochino più difficile però a volte nella lavorazione attenzione a non ruotarle dopo così in questo modo cioè tenetele sempre ben stese in questo modo qua quindi adesso lavoriamo ancora altre tre maglie a dritto quindi una due e tre dritti e ancora una volta tiriamo avanti queste maglie sul ferro ausiliario sempre vedete facendo attenzione sono così quindi non le ruotate le passiamo davanti al filo vedete fate attenzione il filo va dietro queste magliene vengono qui davanti le potete o lavorare direttamente da questo ferro o caricare sopra il sinistro quindi fate magari un po di prove vedete si possono lavorare normalmente dal ferrino qua ora questo tra l'altro è anche abbastanza sottile se ce l'avete un pochino più grosso è meglio io avevo questo a portata di mano preso questo però è un po fine ecco qua tre dritti ecco fatto vedete adesso vediamo solo una grande confusione poi lo vedremo meglio dopo quindi adesso non abbiamo sempre maglie sul ferro ausiliario quindi ne rimettiamo ancora tre vedete queste sono le ultime sei queste le rimettiamo ancora tre maglie sopra il nostro ferrino ausiliario le sfiliamo e le mettiamo dietro un'altra volta siamo dietro il filo facendo attenzione e lavoriamo le ultime tre che sono gli ultimi tre dritti di questo gruppetto sempre a dritto una due e tre dritti ecco qua e poi ancora una volta riprendiamo queste maglie e poi ancora una volta riprendiamo queste maglie le ripassiamo quindi facciamo attenzione le portiamo sulla punta del ferrino e le lavoriamo a dritto quindi una due e tre ecco qua togliamo il ferrino e abbiamo finito tutte le maglie a dritto quindi facciamo le ultime quattro maglie che sono dei rovesci le lavoriamo normalmente quindi a rovescio queste le lavoreremo sempre normalmente a rovescio io ne ho fatte quattro ne potete avere ecco almeno due fatele sempre per mettere bene in rilievo la treccia poi insomma dipende da che schema volete fare ok quattro rovesci ecco fatto questo è finito quindi il primo giro che adesso vedremo solo vedete tutto abbastanza arricciolato infatti stringerà molto la piastrella rispetto cioè lavoro rispetto al lavoro che avevamo per questo vi consiglio sempre di fare un campione una piastrellina campione proprio per vedere le misure che poi avrà il vostro lavoro finito ok il rovescio si lavora con le maglie così come si presentano quindi vedete io adesso ho dei dritti o quattro dritti perché i miei rovesci sul rovescio ovviamente sono dei dritti quindi io lavoro quattro dritti tre e quattro e poi ho tutti i miei rovesci che sono 18 quindi lavorerò 18 rovesci normalissimi quindi tutti i rovesci di questo lavorazione saranno sempre uguali e cioè lavoreremo sempre le maglie come si presentano non dovremmo fare niente di particolare mai ma semplicemente lavorare tutte le maglie così come si presentano quindi vedete quando c'è questo nodino sono rovesci quindi lavoreremo a rovescio quando sono così senza il nodino sono i dritti quindi lavoreremo a dritto quindi finisco il giro a rovescio ok quindi adesso il giro numero 3 quindi siamo nuovamente sul dritto dopo aver lavorato tutto a rovescio sarà un giro semplice cioè tutto a maglia rasata quindi lavoreremo le prime quattro che erano le nostre maglie del bordo a rovescio quindi faremo quattro rovesci 1, 2, 3, 4 rovesci e poi lavoreremo tutto a dritto queste 18 maglie della treccia quindi qui faremo semplicemente quindi un giro così tutto a dritto lavoreremo tutte a dritto queste 18 maglie vedete senza considerare l'incrocio non incroci quindi sarà tutto un giro così a dritto lo finiamo tutto quindi lavoreremo tutte a dritto queste 18 maglie e questo è rovescio poi il rovescio sempre normale come vi ho detto prima e poi vi faccio vedere il giro numero 5 ok quindi adesso facciamo il secondo incrocio che si farà in modo diverso rispetto al primo in modo al contrario diciamo quindi lavoriamo sempre le nostre prime quattro maglie che sono il nostro bordo sinistro quindi ne abbiamo quattro ovviamente ripeto queste non sono una regola ne farete quante volete ok questa è la treccia la treccia questa volta lavoreremo così facciamo tre dritti normali sulle prime tre maglie quindi iniziamo prima incrociavamo subito adesso invece faremo tre dritti ecco qua quindi i primi tre sono tre dritti poi prendiamo il nostro ferrino ausiliario mettiamo sempre tre maglie sopra in sospeso tre maglie questa volta le mettiamo davanti al lavoro non dietro quindi le sfiliamo e le teniamo davanti lavoriamo tre dritti ma ancora una due tre dritti e poi rilavoriamo queste tre maglie che sono sul nostro ferrino quindi passiamo davanti e lavoriamo normalmente a dritto queste tre maglie una due due e tre ecco qua quindi lavorate queste tre dal ferrino ausiliario ne mettiamo nuovamente tre in sospeso le mettiamo su ferrino sempre lavoriamo tre dritti lavoriamo tre dritti le tre maglie successive e poi lavoriamo queste tre che erano sul nostro ferrino queste ripeto potete se vi trovate male perché si lavorano un po male dal ferrino le potete rimettere sopra fate attenzione sempre a metterle senza ruotarle le prendete così vedete le rimettete sopra il ferro se trovate più semplice lavorarle dal ferro tireranno è normale perché devono tirare proprio perché stiamo incrociando delle maglie quindi saranno un po in tirare un due e tre ecco qua quindi potete lavorarle direttamente dal ferrino o incrociarle ecco qua queste sono l'altro incrocio e le ultime tre le lavoriamo normalmente a dritto come le prime tre quindi in questo giro le crocieremo davanti e una volta in meno rispetto al giro precedente ecco qua quindi questo in pratica è tutto lo schema che si ripete continuamente finché vogliamo continuare noi con la treccia quindi faccio le ultime quattro a rovescio ecco qua quindi questo vedete sono già incrociate due ancora si vede male perché sono solo due però voi adesso continuiamo quindi noi adesso facciamo il rovescio lavorato tutto normale un dritto tutto normale quindi a maglia rasata quindi rovescio a rovescio i dritti a dritto vedete qui sono al giro successivo a dritto dopo l'incrocio che io vedete lavoro tutto normalmente a dritto semplicemente facendo tutti i dritti sopra il motivo questo sarà il nostro giro numero 7 quindi il giro numero 7 sarà tutto a dritto lavorando tutti i dritti a dritto che sarà sempre così tra un incrocio e l'altro quindi ricordatevi sempre di non incrociare a tutti i dritti ma una volta sul dritto incrociamo e una volta invece andremo tutto a dritto non vi scordate mai questo giro qui perché altrimenti il lavoro vi verrà troppo incrociato e vi arriccerà troppo non rimarrà l'effetto dell'incrocio bello ma verrà tutto accosato quindi adesso faccio l'ultimo giro che è un giro a rovescio ecco qua finito quindi l'ottavo giro vedete qui quindi qui vedremo questo lavoro tutto così bello steso e rifaremo nuovamente questo primo giro qua quindi ripartite dall'inizio di questo video e riprendete dal giro numero 1 quindi faremo questi incroci con le maglie in sospeso dietro poi continuiamo sempre così quindi ripetiamo sempre questi giri questo è lo schema finito e andiamo avanti sempre così adesso io farò ancora altri giri per farvi vedere il risultato che è veramente molto molto bello ecco qua finito il mio pezzettino vedete come è ristretta tanto quando eravamo partiti era molto più larga quindi se dovete fare un lavoro con questa tipo di treccia qua siccome stringe molto fatevi sempre un bel pezzettino vedete un campioncino così una piastrellina in questo modo e misuratela in modo di rendervi conto bene quanti punti vi verrà in larga in questo modo sapete quanto è larga questa e potrete regolarvi con il vostro schema a seconda appunto delle misure che dovete ottenere perché questo essendo incrociato molto stringe anche molto vedete e è veramente bella guardate com'è bella anche per fare ad esempio una fascia per capelli una treccia una fascia fatta così basterà fare anche due punti di qua e due di là soli al rovescio per il bordo e vedete come viene bella vedete viene proprio viene veramente bella questo tipo di treccia qua può essere fatta ancora più larga invece che su 18 la potete fare anche più grande ancora non ci sono limiti perché se voi continuate continuerà a intrecciare in questo modo anche per larghezze maggiori in pratica voi continuate a ripetere lo schema di queste tre maglie davanti dietro davanti dietro come questo qui senza fermarvi mai e vedrete che vi viene anche più grande dopo che avete fatto qualche giro diventa più semplice perché già anche ad occhio vediamo per esempio quando arriveremo quando arriviamo quando siamo arrivati per dire adesso a fare questo giro qui si vedeva che erano queste le maglie da portare davanti quindi dopo un po' ci si rende conto bene vedete adesso per esempio quando dovremmo fare la prossima incrocio c'è queste tre maglie qui che dovranno venire avanti quindi ci renderemo bene conto che dovremo fare vedete i tre a dritto sopra questo perché questo rimarrà vedete qui quindi questo sarà nei tre dritti normali e poi dovremo prendere i tre dritti di questo che è sotto e portarle avanti per incrociarle poi sopra quindi dopo diventa più semplice nel senso che abbiamo anche dei riferimenti visivi e è bella veramente bella guardate come è semplice è un pochino dura da lavorare perché quando dovremo incrociare tre maglie continuamente un pochino tireranno bisognerà fare un po' di forza e fare attenzione a non perdere le maglie fate sempre molta attenzione al filo a non incrociarla non farlo passare davanti o dietro quando incrociate perché altrimenti vi verranno poi dei fili in giro qua quindi fate attenzione e basta questa è l'unica raccomandazione è fare molta attenzione al filo e a non farvi scappare le maglie e questo è il risultato io con questo adesso la chiuderò e farò una piastrellina per la mia coperta vi lascio il link in fondo a questo video vi metterò il link sia del mio progetto della coperta che anche alla pagina del mio blog dove c'è tutta la spiegazione scritta di questa treccia così potrete anche trovare lo schema scritto in modo da poterla poi rifare come riferimento una volta per non sbagliare se ve la volete scrivere ecco qua quindi questa è la treccia doppia